Pace è un termine che condensa molti significati. Come coniugare pace e marche solidali? Siamo qui proprio perché non possiamo mancare a un impegno così importante. Noi vogliamo collaborare, adesso farò delle proposte poi, proprio al patto dello sviluppo per la rinascita di questa regione, soprattutto dei comuni del cratere che hanno subito questa prova terribile del terremoto. Qual è il nostro petrolio, la nostra ricchezza? È il patrimonio artistico, storico, enogastronomico, da cui possiamo veramente, la nostra miniera d'oro, da cui veramente possiamo ripartire con degli eventi che portino gente, che portino solidarietà e vicinanza a queste popolazioni. Non possiamo mancare.